Ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo make up tutorial, questa volta un pelucchio questa volta un make up tutorial sui toni del rosa antico, rosa, rosso ciliegia questo splendido rossetto che indosso è Cherry di Moolah Cosmetics, uno dei vostri preferiti e questo illuminante, anche se con sotto tono rosato, non so se si vede comunque tutto giocato sui toni del rosa, logicamente, logicamente perché ho realizzato questo look e perché è in arrivo questo fatidico momento dell'anno in cui gli innamorati, non so voi cosa farete, gli innamorati solitamente vanno a festeggiare il loro amore, ecco, io preferirei per esempio farlo tutto l'anno a San Valentino tipo fare altro, però insomma, ognuno è libero di festeggiare questa festa fatemi sapere se voi farete qualcosa per San Valentino con il vostro lui, con il vostro marito, con i vostri bambini, non so, sono curiosissima oppure datemi qualche spunto per festeggiare il non San Valentino ovvero per, non lo so, per essere un po' anticonformista e fare altro San Valentino per esempio, quindi datemi qualche spunto qui sotto perché sono curiosissima ora las metto di parlare perché se no, penso che questo video durerà due giorni vi mando un grosso bacio, spero tanto che il look vi piaccia, spero tanto che anche l'aggiunta di questi glitter meravigliosi sulla lid vi possa, insomma, vi possa magari ispirare per un look un po' più particolare si può mettere logicamente il rossetto, quindi si può andare a creare un look un po' più soft solo incentrato sugli occhi e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video un grosso bacio e vi lascio alla visione del make up tutorial un grosso bacio e vi lascio alla visione del video un grosso bacio e vi lascio alla visione del video un grosso bacio e vi lascio alla visione del video un grosso bacio e vi lascio alla visione del video Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.